Quando il destino bussa alla porta non puoi scansarti, ma devi farti trovare pronto per quanto puoi. La Germania entra nel lockdown duro deciso da Angela Merkel proprio oggi che registra il record di morti, 952 e quasi 28 mila nuovi contagi. Un numero così alto di decessi può dipendere dal ritardo nella comunicazione dei dati a inizio settimana dalla Sassonia, uno dei land più colpiti. Ma le terapie intensive degli ospedali sono piene in tutta la Repubblica federale e la curva dei contagi continua a salire. Da oggi quindi chiuse scuole e tutti i negozi, tranne alimentari, farmacie e banche. Bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, musei, bordelli sono chiusi dal 2 novembre. Da ieri anche in Olanda lockdown rigido fino al 19 gennaio, visto che le chiusure parziali di metà ottobre non hanno funzionato. Aperti solo i servizi essenziali, mentre il premier Rutte dice che lavoratori e imprenditori in difficoltà potranno chiedere aiuto allo Stato. La Francia, invece, che ha numeri migliori, ma gli esperti temono una terza ondata, ha sostituito il lockdown con il coprifuoco, chiusi di notte invece che di giorno. Questa è Parigi dall'alto, un mortorio. Oltreoceano va molto peggio. Ieri sera la campana della Cattedrale Nazionale di Washington ha suonato 300 rintocchi per commemorare i 300.000 cittadini statunitensi morti per il virus. Oggi siamo già a 304.000. Non chiedere mai per chi suona la campana.